Giornata decisamente invernale per la 77esima edizione della Bassano Monte Grappa. Ad accogliere i 109 atleti al via, infatti, sono la pioggia e le temperature piuttosto rigide per il ritrovo fissato, come da tradizione in Piazza della Libertà a Bassano del Grappa. L'organizzazione è ovviamente quella del Veloce Club Bassano 1892, del presidentissimo Michele Cavalera, che ha saputo radunare al via anche quest'anno i migliori scalatori del panorama internazionale. Non poteva mancare, con il dorsale numero 1, la maglia tricolore, Marco Frigo, neocampione italiano under 23, cresciuto proprio tra le fila della società bassanese. Ad abbassare la bandierina del via è la sindaco di Bassano del Grappa, Elena Pavan, che dà il via così alle danze. Per i 109 atleti in gara ci sono da compiere 10 tornate iniziali tra le strade di Bassano del Grappa e poi i 27 chilometri che condurranno in vetta la cima Grappa, posta a 1775 metri d'altitudine. Dicevamo una giornata di pioggia che però non scoraggia gli atleti che da subito si danno battaglia sul circuito cittadino e sfilano ad altissima velocità. A vegliare sulla corsa e sul Monte Grappa ovviamente anche il generale Gaetano Giardino, simbolo di una città, simbolo di un'epoca, simbolo delle tante battaglie che sono state combattute in questi luoghi e che hanno fatto la storia del nostro paese. Gruppo compatto dunque nelle fasi iniziali ma non ci vuole molto perché a prendere il largo sia un'azione piuttosto corposa. Infatti se ne vanno in sette corridori saranno Kevin Bonaldo e Matteo Zurlo della Zalfero Mobile Desirefior, Filippo Stocco della Valcavasia, Marco Viero della Work Service Videa, Patrick Nastasi della Cinelli, Lorenzo Tomesani della Hickory Cablotec e Martin Nessler della Casillo Maserati. Questi atleti raggiungeranno un vantaggio massimo di 1 minuto e 20 sul resto del gruppo fino a quando a porsi in testa alla plotone ci penseranno le maglie della Dimension Data for Cubeca. Gli atleti diretti dall'ex campione del mondo Under-23 Francesco Chicchi infatti sono arrivati a Bassano del Grappa con l'intenzione di essere grandi protagonisti dopo esserlo stati anche sulle strade del Giro della Valle d'Aosta. In questa Bassano Montegrappa che mette in paglio anche il Memorial Pasqualino Tellatin e Luigi Zanatta che vuole ricordare anche altre due figure importantissime della Veloce Club Bassano 1892 come Riccardo Costenaro e Cipriano Chemello, uomini che con la loro passione hanno fatto crescere un team che oggi oltre ad essere un'organizzazione professionale rappresenta anche uno dei punti di riferimento del mondo giovanile. Ma quando siamo alla chilometro 80 di gara, siamo ormai all'uscita dal circuito iniziale vedete che in testa alla corsa si è formato un gruppetto di una ventina di unità. La maggioranza è quella delle maglie della Zalfa Aeromobile Desirefiore e della Dimension Data perché sono state queste due formazioni a spezzare il gruppo in seguitore e a riportare un drappello di una quindicina di unità sui sette attaccanti della prima ora. Con le immagini ci siamo già spostati alle pendici del Monte Grappa e vedete che dal gruppo tentano di uscire Alessandro Monaco e Santiago Buitrago Sanchez maglia Casillo Maserati per Monaco, Cinelli per il Colombiano che tentano di recuperare sui fuggitivi. Un drappello, quello di testa che si seleziona, restano in cinque al comando a trinare l'azione di questi cinque è Samuele Battistella della Dimension Data insieme con lui Andrea Pietro Bon, Marco Frigo ed Edoardo Francesco Faresin della Zalfa oltre a Moulouk Niferal Michael della Dimension Data. Poco più indietro insegue questo drappello che giunge dunque al tornante ma attenzione alla caduta di Laurent Rigolet della Casillo Maserati sprontamente soccorso dal pubblico, sempre presente sulle strade della Bassano-Monte Grappa infatti strade rese viscide da una giornata davvero invernale una giornata da lupi che però non ferma l'azione di Samuele Battistella il rossanese che fa il forcing in testa alla corsa sulla sua ruota resiste Marco Frigo della Zalfa e il compagno di squadra sempre della Dimension Data, l'Etiope Moulou. Poco più indietro tutti gli altri, vedete si sale e oltre alla pioggia ci sono anche le nuvole a rendere ancora più epica questa edizione quando siamo a 19 km dal traguardo, dalla testa della corsa perde contatto anche l'Etiope Moulou dunque restano al comando Marco Frigo della Zalfa Aeromobile Desirefior e Samuele Battistella della Dimension Data for Kubeka due atleti vicentini, due tra i migliori interpreti del panorama Under 23 italiano che si stanno dando battaglia per il successo in quella che è la classica più nobile del calendario nazionale vicentino in questo caso ha cambi regolari dunque in testa alla corsa tra Marco Frigo e Samuele Battistella che iniziano però a studiarsi la loro andatura è sicuramente convinta ma non è delle migliori si sale ancora, si incontra un'altra nuvola, ancora nebbia, ancora pioggia, ancora freddo ma temperature che non fermano questi due grandissimi protagonisti della 77esima Bassano-Montegrappa al loro inseguimento si forma un'altra coppia composta da Mulu della Dimension Data e Pietro Bon della Zalfa mentre più indietro c'è un drappello che viene trainato da Aldo Cajati insieme ad Alessandro Monaco Francesco Faresin, Alex Tolio e ovviamente anche Santiago Buitrago Sanchez della Cinelli questi i migliori di giornata che vanno a transitare a Camposolagna perché in testa alla corsa si forma un drappello vengono ripresi Battistella e Frigo, rientrano tutti i favoriti della vigilia e quando siamo ad una decina di chilometri dal traguardo si forma il drappello con tutti i migliori scalatori del panorama nazionale ed internazionale ragazzi che sono stati protagonisti al Giro d'Italia Andare 23 che hanno saputo esserlo anche al Giro della Valle d'Aosta e adesso vogliono giocarsi questa Bassano-Montegrappa tocca alla Zalfero Mobile Desiree Fior fare il ritmo in testa alla corsa e a pensarci è il giovane Alex Tolio davvero molto interessante questo ragazzo al primo anno nella categoria che detta il ritmo proprio sul drappello dei migliori sulla sua ruota Andrea Pietro Bon quindi Marco Frigo, Alessandro Monaco e tutti gli altri e vedete che però quando mancano 6 km al traguardo si rompe l'accordo in testa alla corsa a provare ad anticipare tutti quanti è l'etiope Mulu della Dimension Data che prima aveva perso terreno è rientrato in vista di Camposolagna e ora prova ad andarsene tutto solo ad inseguirlo c'è il colombiano Santiago Buitrego Sanchez della Cinelli mentre a condurre il drappello in questa fase è Alessandro Monaco sulla sua ruota vedete Samuele Battistella, Marco Frigo e Andrea Pietro Bon sono questi gli ultimi ad alzare bandiera bianca perché il passo di Mulu questa volta è incontenibile il ragazzo ci aveva già provato al giro della Mediobrenta quando mancavano più di 100 km al traguardo ci aveva riprovato la settimana scorsa al giro della Valle d'Aosta conquistando alcuni piazzamenti importanti ma è oggi la Bassano Montegrappa che va alla caccia del suo primo successo sulle strade europee e quando siamo al cartello dei 3 km al traguardo vedete che il vantaggio di Mulu su Frigo, Monaco, Battistella, Buitrego Sanchez e Pietro Bon è già di 35 secondi attenzione perché l'azione di Mulu è travolgente il ragazzo della Dimension Data for Kubeka che arriva dall'Etiopia che è l'espressione massima per il progetto portato avanti dalla formazione sudafricana che ha anche questo team continental con sede in Italia capitanato proprio da Francesco Chicchi che sta cercando l'impresa sarebbe un'impresa storica che andrebbe ad aggiungersi ad un albo d'oro davvero straordinario sempre Alessandro Monaco a dettare il ritmo all'inseguimento della battistrada ma ormai sono 40 i secondi che lo separano dalla testa dicevamo dell'albo d'oro che comprende oltre a Gino Bartoli nella 1934 anche tantissimi altri campioni intanto con Mulu siamo all'ultimo chilometro e sono già tre stagioni che a vincere sono atleti stranieri con Ryabushenko e Prodom mentre l'ultimo italiano a svettare sul Montegrappa era stato Giulio Ciccone nel 2015 ma ormai siamo alle battute conclusive e per Mulu, Kinfe, Haile Michael è ormai trionfo la Bassano Montegrappa numero 77 va all'Africa va all'Etiopia va a Mulu, Kinfe, Haile Michael della Dimension Data for Kubeka agli altri non resta che lottare per il secondo posto una medaglia d'argento che va a Samuele Battistella compagno di squadra della vincitore terza piazza invece per l'applauditissimo e bravissimo Marco Frigo primo anno nella categoria, lo ricordiamo, campione italiano di Bassano del Grappa a seguire giunge Santiago Britrago Sanchez della Cinelli e Alex Tolio della Zalf, Euromobile, Desiree Fior più indietro tutti gli altri intanto è un abbraccio caloroso quello che riserva Francesco Chicchi al suo atleta è lui a salire sul primo gradino del podio e a ricevere il sasso della grappa il premio più ambito per gli scalatori Under 23 non ci resta che andare ad ascoltare le parole del vincitore di giornata e ovviamente di Michele Cavalera Mulu, è un giorno duro ma un bellissimo giornata per te sì, è difficile prima ma prima ci sono stato raggiunto il mio amico che mi aiuta aiutato, prima ho sottoposto e poi racconto e quindi mi aiuta aiutato il mio amico e poi sottoposto e ho scoppito il riletto con la gruppa in fronte la prima sc�ola è difficile ancheした poi mi ha sorpreso oggi, non lo credo Sono felice perché è la mia prima vittoria in Europa, perché dopo il Valdosta è molto felice. Michele Cavalera, un'altra vittoria internazionale per la Bassano Montegrappa? Qui siamo stupiti da questi stranieri che vengono alla Bassano Montegrappa, abbiamo fatto per molti anni vincitori italiani, in questi ultimi anni abbiamo vincitori stranieri, è una bella soddisfazione per questa manifestazione. Una giornata difficilissima dal punto di vista meteorologico, ma è grande festa lo stesso per la Bassano Montegrappa, tanta la gente che è venuta comunque ad applaudire questi ragazzi al treguardo. Beh, in meteo si sapeva che era così, è andata forse anche meglio delle previsioni disastrose che c'erano, abbiamo organizzato nel migliore dei modi e tutto è andato bene finora.